Nella medicina moderna, nella scienza moderna, c'è una tendenza a identificare la consapevolezza, la mente e il cervello, a rendere la mente una funzione del cervello, la consapevolezza una funzione della mente e di trattarle chimicamente e alterarle chimicamente. E quel benessere è una buona chimica del cervello, una consapevolezza superiore è buona chimica del cervello e l'infelicità è cattiva chimica del cervello. Nessuno è responsabile, ma dobbiamo cambiare la chimica per renderlo migliore. Ora, nel pensiero yogico, cervello, mente e consapevolezza sono tre cose diverse, ma sono collegate a un certo livello. Quindi la mia domanda a Sadhguru è la natura del cervello, della mente e della consapevolezza. Come possiamo usare il cervello e la mente nel modo giusto senza rimanervi bloccati e il modello di guarigione che è basato su più consapevolezza che chimica del cervello? Nelle scienze yogiche non c'è qualcosa come il cervello. Il cervello è solo corpo. Come c'è un cuore, come c'è un fegato, c'è un cervello, è solo corpo. Penso che questa percezione troppo esagerata di ciò che è il cervello giunga perché, come ho detto la mattina qui, i nostri sistemi di istruzione sono diventati puramente intellettuali. Pensiamo che l'intelletto sia tutto. Lasciami, voglio dire, cercherò di dirlo in modo molto breve. Quando dici qualcosa di molto complesso in modo breve, ci saranno dei buchi in esso. Per favore trova i buchi se li trovi, altrimenti mi va bene. Nel sistema yogico osserviamo la mente umana come sedici parti. Queste sedici parti sono in quattro categorie. La prima è Buddhi. Buddhi significa l'intelletto. L'intelletto... Ti chiedo, vuoi che il tuo intelletto sia affilato o smussato? Tutti voi dovete scegliere, vi sto per benedire. Lo vuoi affilato. Quindi l'intelletto è essenzialmente come un coltello. Usi un coltello per aprire le cose. Questa è la natura dell'intelletto. Qualunque cosa tu gli dia, la dissezionerà. L'intera scienza moderna deriva dall'intelletto umano. Quindi ogni cosa è per dissezione. Se dai questo fiore agli scienziati, lo strapperanno e guarderanno. Se lo strappi e guardi, sì, naturalmente ci sono molti fatti che saprai sul fiore. L'unica cosa è che dopo non avrai il fiore. E ora, se vuoi davvero conoscere qualcosa, diciamo che vuoi davvero conoscere tua madre. Ti prego, non dissezionarla. Non è così che funziona, perché... Ciò che puoi conoscere per dissezione è l'aspetto materiale della vita. Non puoi conoscere la vita per dissezione. Solo il materiale e il fisico possono essere dissezionati. Ma ora stiamo usando il nostro intelletto per capire l'intero spettro delle cose. Ora cerchiamo di dissezionare. Continuiamo a parlare di unificare il mondo, unità, illuminazione, tutto con l'intelletto. Questo è come usare un coltello per cucire qualcosa. Se cuci qualcosa con un coltello, lo lasci in brandelli. Quindi stai vedendo questo. Più conoscenza raccogli su qualcosa, maggiore è l'incomprensione e più ci allontaniamo dalla verità. Non perché l'informazione sia sbagliata, perché cerchiamo di cucire con un coltello. Quindi l'intelletto è come un coltello. Deve essere affilato. È uno strumento di sopravvivenza. Se non avessi un intelletto discriminatorio, non sopravviveresti su questo pianeta. È molto, molto vitale. Ma la sopravvivenza è tutto ciò che può fare. Ma l'intelletto non può funzionare a meno che non ci sia un certo volume di memoria. Se cancelli tutta la memoria, non importa quanto, qualunque sia il tuo QI ora, se togli tutta la tua memoria, improvvisamente apparirai stupido. Potresti essere ancora intelligente, ma appari stupido. Questo succede sempre in India. Le persone mettono insieme i bambini di campagna e i bambini di città. E li testano. Solo per il volume di informazioni che il bambino di città ha, sembra intelligente. Un bambino di campagna sembra stupido. Ma mettili in situazioni reali. Vedrai, ne usciranno fuori così intelligenti perché la loro intelligenza è pienamente attiva. Quindi l'intelletto appare intelligente solo quando lo sostieni con tante informazioni. E quindi vedi la tecnologia dell'informazione e tutti impazziscono per l'informazione. Non guardano i loro telefoni solo per perdere del tempo. perché solo con tutti quei frammenti di dati sembrano intelligenti tra i loro amici nella società in cui vivono. È solo con i dati che possono sembrare intelligenti. Senza dati non possono fare una cosa intelligente. Ti dirò solo un esempio. Noi abbiamo due diversi tipi di scuole. Uno è un tipo moderno di scuola dove il 30% dei bambini viene dagli Stati Uniti, in India. E un altro è una scuola completamente tradizionale dove insegniamo loro solo yoga, danza classica, musica classica, claripaitu, la madre di tutte le arti marziali, sanscrito e inglese. Non fanno materie accademiche in quanto tali. Questo è stato qualche anno fa. Dei bambini piccoli corrono tutti al posto per lavarsi le mani. Il lavandino è a questa altezza. Molti di questi bambini di 6-7 anni non ci arrivano. Quindi tutti, quelli che stanno seguendo l'istruzione moderna, andranno e staranno lì in modo molto civilizzato. Aspetteranno che un insegnante o qualcuno venga a mettere un panchetto e ci saliranno e si laveranno. Questi altri ragazzi corrono lì. Quelli più grandi si piegano, i più giovani si arrampicano su di loro, si lavano e corrono via. Quindi, troppo orientamento verso l'intelletto e le altre dimensioni dell'intelligenza non sono affatto coltivate oggi. Quindi la dimensione successiva della mente viene chiamata Ankara e l'abbiamo completamente ignorata. Ankara non significa ego, come la maggior parte delle persone inizia a pensare. Significa identità. Con che cosa si è identificato? perché l'intelletto è essenzialmente uno strumento per proteggere l'identità che hai assunto. Se dico sono indiano, improvvisamente il mio intelletto mi fa pensare in quel modo, mi rende disposto a vivere e morire per quello. Vedrai, solo un pezzo di stoffa, se lo mostri, cioè una bandiera. Le persone avranno le lacrime agli occhi. Solo l'identità. Se li avessi messi da un'altra parte, avessi mostrato un'altra bandiera, sarebbe successa la stessa cosa. In India, Pakistan, è davvero impressionante perché era un'unica nazione e all'improvviso qualcuno ha tracciato una linea e tutta l'emozione, il modo in cui funziona, è incredibile. Solo perché ti sei identificato con questo o quello. Quindi l'intelletto è uno strumento che protegge l'identità. L'identità è quello strumento che permette all'intelletto di funzionare in un certo modo. Quando dico in un certo modo, supponi che tu sia identificato solo con questo me, come persona. Il tuo intelletto farà solo questo per proteggerti tutto il tempo. Tutto il tempo farà solo questo. Ora dico che la mia identità è la mia famiglia. Ora il tuo intelletto farà di tutto per proteggerla. Oppure dici una comunità, una razza, una religione, o una nazione. In nome della razza, della religione, della nazione, quante cose abbiamo fatto che sono del tutto idiote e disumane. Ma lo facciamo con grande orgoglio. Perché siamo identificati. Perché questa è la natura. Se dobbiamo continuare questa analogia, se l'intelletto è il coltello, la mano che lo tiene è l'identità. Dimmi, nel maneggiare un coltello, il coltello è importante che si è affilato. ma se diventa distruttivo o produttivo, è determinato dalla mano che lo tiene. Non è così? Ma nella società di oggi, nel mondo di oggi, non si coltiva la mano per niente. Le identità sempre più piccole che stiamo creando causeranno inevitabilmente disordine all'interno dell'essere umano e nel mondo. Non c'è altro modo. Fin dei tempi antichi, nelle culture orientali, ci è sempre stato insegnato ad avere un'identità cosmica, Aham Brahmajmi. All'età di 12 anni, devi conoscere Aham Brahmajmi. Questo significa io sono il cosmo. Senza identificarsi con un'identità illimitata, non dovrebbe essere fornita alcuna istruzione. Solo dopo che l'identità è stabilita, allora l'istruzione. Perché senza il giusto tipo di identità, l'istruzione diventa distruttiva. Perché è un'identità limitata. Possiamo dire ciò che vogliamo, ma essenzialmente tutto il crimine, tutto il male, le cose più terribili che facciamo, è solo una questione di identità limitata. Non è così? Questo è il mio modo, quello è il tuo modo, il mio paese, il tuo paese, la mia religione, la tua religione. È tutto qui. Quindi senza coltivare l'identità, stiamo affilando il coltello. Abbiamo una mano instabile, ma stiamo affilando il coltello e armandolo con la memoria. Quindi la dimensione successiva della mente si chiama manas, che è un silo di memoria. Qui ci sono otto dimensioni di memoria. Inizia dalla memoria primordiale, la memoria atomica, la memoria evolutiva, la memoria karmica e la memoria conscia. La memoria inconscia, la memoria articolata, la memoria inarticolata, così ci sono molti stati di memoria. Come abbiamo già visto, questo corpo porta la memoria di ogni cosa che è successa su questo pianeta. Se prestemo abbastanza attenzione, possiamo sapere, semplicemente osservando questo, come è accaduta l'evoluzione. Solo 150 anni fa, Charles Darwin parlava di evoluzione studiando la vita sul pianeta. Ma più di 15.000 anni fa, Adiyogi parlava di come la vita si è evoluta. Disse, prima, quasi ogni indiano lo sa, ma non ne è consapevole. I dieci avatar. Devi aver studiato molto in proposito. Il primo è il pesce, o la vita acquatica. Il successivo è anfibio. Il successivo è un mammifero. Il successivo è mezzo uomo, mezzo animale. Il successivo è un nano. Il successivo è un uomo adulto, ma instabile. Il successivo è un uomo pacifico. Il successivo è un uomo amorevole. Il successivo è un uomo meditativo. Il successivo si suppone che sia l'uomo mistico. Questa non è la storia di un uomo. È l'evoluzione della vita su questo pianeta. Quindi, 15.000 anni fa, qualcuno ha parlato di questo, non guardando nel microscopio, ma guardando all'interno, perché l'intera storia evolutiva è scritta qui. Quindi il sistema yogico è focalizzato su questo, su come attivare dimensioni diverse di memoria. Perché senza questo, con una quantità limitata di memoria, sei destinato ad agire in modi immaturi. Quindi, se il tuo intelletto diventa supercapace, allora è molto, molto importante che la tua identità sia cosmica, un'identità illimitata, e che la tua memoria sia evoluta in modo che tutte le dimensioni di memoria siano attive. Queste tre funzionano in un certo modo. Alcune persone le hanno evolute in certi modi, ma in gran parte sta accadendo in modo molto simmetrico. Troppo intelletto e altre cose sono molto minimaliste. La quarta dimensione di intelligenza si chiama citta. Questa è una dimensione di intelligenza che non è contaminata dalla memoria. Vedi, dobbiamo capire questo. Siamo chi siamo solo grazie alla memoria che portiamo. Dal colore della nostra pelle, a ciò con cui ci identifichiamo, ciò che siamo, se siamo uomini o donne, o tutto. Tutto è questione di memoria. E la memoria è immagazzinata in questo che sta decidendo tutti questi aspetti. Che io sia un essere umano o qualche altra creatura è anche una questione di memoria. La memoria è una possibilità enorme, ma la memoria è anche una limitazione che non è un confine. Ciò che è te e ciò che è me in questo momento, il confine di ciò è solo la memoria. Ciò che ricordo nel mio sistema è ciò che tu ricordi nel tuo sistema è il confine. Quindi la memoria è anche un confine. La memoria è la base di tutte le forme che sono accadute. C'è una certa memoria che crea dei modelli, i quali modelli a loro volta creano delle forme fisiche. Il modo in cui siamo, il tipo di forma che abbiamo preso è essenzialmente per via della memoria di base che esiste. Non si è mai confusa. Nel senso, suppone che tu e una mucca ogni giorno cominciate a mangiare mangi. Non succede mai che un giorno per caso o per un vuoto di memoria la mucca diventi umana o tu diventi una mucca. Entrambi mangiate lo stesso cibo ogni giorno ma non accadrà perché la memoria è inculcata così fortemente a vari livelli. Riconosciamo otto dimensioni diverse di memoria ma citta non ha nessuna memoria, nessun ricordo, significa nessun confine, un'intelligenza oltre i confini. Nella cultura yogica c'è un modo malizioso di esprimere questo. diciamo se tocchi la tua città Dio diventerà il tuo schiavo perché la tua intelligenza diventa sconfinata, tutto diventa accessibile. Quindi è molto importante perché questa è la prima volta dobbiamo capire questo questa è la prima volta in cui il nostro processo di sopravvivenza è organizzato quanto oggi. Questa è la prima volta che gli esseri umani hanno così tanto tempo per osservare le cose altrimenti solo mettere insieme il cibo richiederebbe 24 ore. Ancora una volta nelle società benestanti torniamo alla stessa cosa come hai detto in Montana qualcuno deve fare tre lavori quando c'è così tanta terra perché hai bisogno di un lavoro per avere il tuo cibo? No perché vuoi comprarlo in un Walmart? Sto dicendo che abbiamo come distorto l'intera cosa. Per la prima volta la nostra sopravvivenza per esempio oggi vai nel tuo ipermercato quello di cui hai bisogno per il prossimo anno puoi comprarlo portarlo a casa e non uscire di casa per il prossimo anno è possibile non è mai stato possibile prima l'acqua di stamattina se la devi prendere significa che devi camminare giù al fiume lo stagno o quant'altro per la prima volta il nostro processo di sopravvivenza è così incredibilmente organizzato questo è il momento per l'umanità questo è il momento per l'umanità di esplorare dimensioni più profonde della vita